La città di Verona In realtà, diciamo così, anti-veneziana Ma ora di questo non parliamo Allora, così che tutti si aggregano sotto Venezia In generale, i centri minori, vi ho detto appunto i nidi grossi Vengono accontentati quando chiedono alla dominante Di staccarsi dal centro principale dominante E di essere direttamente governati dalla dominante Significa, in altre parole, che una serie di centri del contado Che sono già delle podesterie Quindi, attenzione, sono governate da un funzionario Che si chiama Podestà Che in passato veniva nominato dalla città dominante Quindi, che so, abbiamo parlato di Conegliano Veneto Ammettiamo, finché stava sotto Vicenza Il Podestà di Conegliano era nominato da Vicenza Adesso, invece, il Podestà è nominato da Venezia Qual è l'essenziale differenza? È che, come Podestà, Venezia manda un suo nobile Un suo nobile Allora, guardate, questa è tutta la differenza Questi centri si sentono promossi di rango Perché diventano delle podesterie governate da un nobile veneziano Non da un detestato patrizio aristocratico Della vicina città Che ha tendenzialmente degli interessi Sia propri, sia di casta A spremere il territorio Ma un nobile veneziano Per estrazione, cultura e interessi economici È un po' più imparziale e disinteressato Rispetto a quella figura che vi ho appena detto Diciamo, aristocratico della città dominante Per cui, questi centri, diciamo Si sentono effettivamente più tutelati Più importanti Significa che si sentono, come dire Attenzione, agli abitanti Di valere di più Questo, guardate, che è un processo di incittadinimento Di creazione di un senso della cittadinanza Che è quanto mai prezioso da riscoprire Anche ai nostri tempi Se voi andate a Rovereto Cittadina appena sotto Trento E voi dite Ma voi che passato avete avuto? Loro vi dicono Noi siamo stati sotto Venezia Allora, quando voi andate Poi a vedere le storie Scoprite che questi qui sotto Venezia Ci sono stati ma per neanche un secolo E poi il resto del tempo Sono stati sotto tutta una serie di altri dominatori Tra cui anche i conti di Castelbarco Di cui a Rovereto Oggi giorno non interessa più niente a nessuno Salvo che il castello Fuori Rovereto È dei conti di Castelbarco Che erano i dominatori feudali Quindi Rovereto era proprio inizialmente Una signoria di questi signori Appunto rurali Che oggigiorno Nella memoria locale Non contano più niente Poi loro sono stati sotto Gliasburgo Ma non te lo diranno mai E via discorrendo Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che L'esperienza che equivale a un settantennio Non so quanto Anzi anche meno Di governo veneziano Ha inciso nella memoria storica locale Molto più dei secoli di dominio di altri Sapete perché? Perché si sono sentiti importanti sotto Venezia Per tutta una serie di motivi Che poi gli amici roveretani mi hanno spiegato Perché effettivamente Venezia ha incrementato Tra l'altro E sentite qui Questa è veramente public history Ha incrementato Nella coscienza locale Il sentimento di essere degli imprenditori Di essere dei mercanti Cioè i roveretani dicono Noi siamo un po' mercanti Ti sapete quello stile veneziano del mercante Ma come voi siete trentino? Cioè come fate a dire Cioè quelli sono sulla laguna No no ma noi qua così Poi sull'Adice E' effettivamente vero L'Adice era navigabile Eccetera E quindi c'era un flusso di merci Insomma noi qui siamo Mercanti imprenditori Attenzione Mica come quelli di Trento Perché quelli di Trento Nella percezione dei roveretani Sono degli addormentati Attenzione a questo Cioè sono diciamo più inerti Di fronte alle possibilità Anche di incremento economico Che è tipico dello spirito mercantile Allora vedete Questa è una mitizzazione del passato Ma ben venga Io non vi sto lungi da me L'idea di mettere queste cose in caricatura Anzi Anzi questo ripeto è il bello Dell'Italia Cioè la costruzione dell'identità locale Passa attraverso queste realtà Vi racconto tutto questo Perché quando è uscito questo mio volumetto Su Venezia Terraferma Uno dei primi che lo ha comprato E' stato un signore di rovereto Che poi mi ha cercato Per dirmi che era molto contento Di aver trovato un libro Sulla Terraferma Veneziana Perché noi siamo sudditi di Venezia Allora io poi sono andato a rovereto L'ho conosciuto Siamo diventati amici Mi ha portato a vedere tutto a rovereto Ed intorni Quindi ne ho tratto un grandissimo beneficio E così L'ho approfittato Per farmi dire Che cos'è la percezione Dell'essere roveretani Oggigiorno Bene Significa essere dipendenti Da questo passato veneziano Che però E' durato Neanche un secolo Le altre dominazioni Rispetto a questa Non sono minimamente considerate Vorrà pure dire qualcosa Allora vuol dire questo Cioè vuol dire Avere fatto sentire Questa realtà Più protagonistica Vuol dire anche E guardate che non è secondario Avere inciso Sul piano urbanistico Cioè ci sono state Una serie di interventi edilizi Che hanno strutturato Il centro storico Attenzione a questo Della vecchia rovereto medievale Che oggi noi dobbiamo Ricostruire con uno sforzo Di immaginazione Era una borgata feudale Sapete cosa vuol dire Ad esempio Vuol dire che difficilmente In questo tipo di aggromerati C'è un centro storico degno Un centro di aggregazione civica Invece Venezia Che per far questo Butta anche giù edifici Apre gli spazi E crea delle piazze Poi immancabilmente In mezzo alla piazza Ci sarà la colonna Con su il leone di San Marco Quindi ci sono sempre I simboli del potere Quindi attenzione Non sono Operazioni fatte Diciamo Per puro abbellimento Urbano Chiaro Cioè sono piazze Che devono servire Tra l'altro Ad aggregare Come si faceva L'assemblea Dei capi famiglia Che venivano Ad esempio Interpellati In occasione Che so Delle emissioni Di alcuni Che so Di notizie Di bandi Di regole Leggi Quant'altro O motivi anche giudiziari Quello che era Insomma Quindi sono luoghi Appunto di esercizio Dell'autorità Ma hanno sempre Una ricaduta Di tipo monumentale Perché in effetti Venezia È attenta Alla dimensione estetica Io questo L'ho potuto vedere Appunto perché Quando poi Si tratta Ora appunto Fra quattro E soprattutto Cinquecento Di strutturare I centri storici Di queste Di queste città In effetti Si impiegano Tutta una serie Di accorgimenti Di tipo estetico E se avete tempo O desiderio Dopo vi faccio Qualche esempio Più in dettaglio Perché fra l'altro Corrispondono anche A tanti spunti Di visita turistica Sempre ai fini Di quella Public history Che vi ho detto prima Cioè Basta andare in una piazza D'Italia Leggere Tutto ciò che una piazza Ci può dire E già noi diventiamo Degli italiani Un po' più Consapevoli Ma viene anche Per le mura Perché Quella è una cosa Straordinaria Cioè vengono costruite Delle mura Secondo alcuni requisiti Di monumentalità Che si esprimono Soprattutto nelle porte Quindi Sono dettagli Che agli occhi Dei visitori Del passato Risaltavano tantissimo Fate attenzione Alle porte monumentali Delle cinte murarie Delle città italiane E questo già È un messaggio Molto Molto Chiaro Quindi Torniamo appunto A noi Questa fase Diciamo Di state building Come si dice Con un anglicismo Nel caso Dello stato veneziano Corrisponde Grosso modo Al quindicesimo Secolo Quindi con un'esplosione All'inizio Siamo intorno Appunto 1404-5 Si aggrega Una buona parte Del Veneto 1420 Una buona parte Del Friuli Poi L'aggregazione Significativa Successiva 1426-28 Bergamo-Brescia Poi si aggiungerà Anche crema E così si Arriva Diciamo A estendere Fino Diciamo Da quelli che saranno I confini Che poi resteranno Per i secoli Successivi Però attenzione Perché poi D'improvviso Tutto questo Stato che è Molto forte E molto temuto Nell'Italia del Quattrocento Va in pezzi Nonostante Nell'Italia del Quattrocento Venezia Faccia paura E venga considerata Una potenza Espansionista Probabilmente La più La più temibile Dagli altri stati Vicini Dicevano addirittura Che Venezia Volesse arrogarsi La monarchia D'Italia Monarchia D'Italia Un sintagma Molto interessante Che dice Molto anche Della storia D'Italia Venezia Ambisce Alla monarchia D'Italia Cosa vuol dire Monarchia D'Italia Non quello Che noi Pensiamo Cioè Venezia Non puntava Ne poteva A conquistare O ad aggregare Tutta l'Italia Però è vero Che se fosse stata Libera di fare A suo modo Sarebbe diventata La potenza Arbitro Degli affari italiani Ecco cosa voleva dire Monarchia Nel gergo Politico Dell'Italia Del rinascimento Cioè Potere Egemonico Di influenza Sugli altri E siccome C'erano altri stati Che ambivano A questo E poi soprattutto C'era il papato Che non poteva Sopportare Che uno stato Che non fosse il papato Esercitasse L'egemonia In Italia Ovviamente Tutto questo Finì Lavorò Appunto Per la rovina Di Venezia Che arrivò In un anno Particolare Ed è un anno Anche questo Veramente Importantissimo Decisivo Per la storia Direi anche In questo caso Generale D'Italia Che è l'anno 1509 Battaglia Di Agnadello Un rovescio Militare Molto considerevole Però Attenzione Non veramente L'annichilamento Del potenziale Militare Veneziano Una severa Disfatta Militare Ma non La cancellazione Non la polverizzazione Di Venezia Come macchina Militare Quindi un severo Rovescio Militare Però A causa di questo Accatena Ribellioni Delle principali Città Del dominio Di terraferma Che portano A un disfacimento Subitaneo Dello stato Veneziano Cioè Le città Si rivoltano Contro Venezia Aprono le porte Alla potenza Vincitrice E sostanzialmente Si mostrano propense A un nuovo Un nuovo Assetto Di potere Le popolazioni Urbane Sottolineo Urbane Perché le popolazioni Rurali La pensano Diversamente Ma le popolazioni Urbane Sono Esattamente Come Quelle Della stragrande Maggioranza Delle popolazioni Italiane Dell'epoca Indifferenti A chi Governa Per i secoli Successivi Nelle zone Appunto Del dominio Veneto È attestato Questa sorta Di proverbio Che dice Ora io ve lo dico In un italiano Vagamente venezianizzato Dice Chi sarà il paron Pageremo il fitto Cioè Chi sarà il padrone Di volta in volta Noi pagheremo L'affitto A questo qui Cioè Che sia uno Che sia l'altro Franza O Spagna Purché Semagna Questo è ciò Che si diceva In altre latitudini Ma insomma L'essenza è questa Cioè L'indifferenza Rispetto appunto Ai padroni Ai governanti Che vengono considerati Come Sempre Delle entità Estranea Questo vale Per le popolazioni Urbane Non vale Per le popolazioni Rurali Sia dell'area Veneta Ma anche Dell'area Lombarda Cioè Soprattutto Le vallate Bergamasca Bergamasca E Bresciane E Ancora più Del Friuli C'è un attaccamento Della patria Del Friuli Come si diceva allora Cioè Il Friuli Udinese A Venezia Che è molto Significativo Perché Per le popolazioni Rurali Effettivamente Invece La cosa Fa differenza Cioè Non è proprio Indifferente Stare sotto Questo O quello Cioè Sotto Venezia Si sta meglio Ed è preferibile Stare E' quello Che attestano Queste popolazioni Che sono pronti Addirittura A imbracciare Le armi A fare La guerra Quindi A Come dire Mettere a disposizione Come dire Le loro stesse vite Per In qualche modo Mantenere in piedi L'assetto Statuale Veneziano Sono tutti Episodi Appunto Già noti Che vedo anche voi Conoscete già E che sono appunto Materia di Riflessione Perché Appunto C'è Questo dualismo Città Territorio Che poi Appunto Risalta In questa situazione Di crisi Ma Semplice Perché Venezia Nei decenni Precedenti Ha cercato Di mantenere Una linea Di equidistanza Fra la città E la campagna La campagna Quindi non ha Veramente Favorito Più di tanto I contadini Ma non li ha Neanche Veramente Danneggiati Non ha Ha consentito Quindi Quei soprusi Così smaccati Da parte del mondo Cittadino Verso appunto Il mondo Rurale Di conseguenza Ha scontentato Le oligarchie E i ceti dirigenti Urbani Se li è Alienati In qualche modo O perlomeno Non ha Favorito Come dire L'instaurazione Di un vero legame Di fedeltà Nonostante Vi posso dire Credetemi Sulla base Appunto Della conoscenza Diretta In realtà Venezia Abbia sempre Privilegiato Il mondo urbano E i ceti dirigenti Venezia è una potenza Conservatrice E non Non rivoluzionaria Però è vero Che ha questo approccio Diciamo così Tendenzialmente Imparziale Anche perché C'è un'esigenza Di tipo economico Cioè È meglio Tutelare le popolazioni Della campagna Campagna anche Per motivi fiscali Cioè È meglio Che queste popolazioni Stiano bene E siano redditizie Dal punto di vista Anche fiscale Piuttosto che Consentire Soprusi Tali che Possano addirittura Ledere In qualche modo I meccanismi di produzione Della ricchezza Cosa che sarebbe Sicuramente successa Se i cittadini Fossero stati liberi Di fare a modo loro Perché come sempre Le elite Diciamo così Impunite E lasciate a loro stesse Tendono appunto Ad abusare Del loro potere Ma addirittura A danneggiare I presupposti stessi Di funzionamento Del sistema Dal punto di vista Economico E quindi È meglio appunto Limitare in qualche modo I privilegi Ecco Tanto basta Però attenzione Perché quindi nel 1509 All'indomani di Agnadello Apparentemente Tutto va all'aria Però attenzione Perché tutto viene Riconquistato Molto rapidamente E qui Oltre a una spregiudicata Azione Militare E diplomatica In cui Venezia Dimostra appunto Di avere anche Una certa Come dire Abilità Nel sapersi Giostrare Fra le potenze In conflitto Quindi È in grado addirittura Di fare Una sorta di Piroetta Diplomatica Cioè Si allea Con quello stesso Regno di Francia Che l'aveva distrutta D'Agnadello Quindi Ti allei Col tuo peggiore nemico Con una spregiudicatezza Totale E alla lunga Il tuo peggiore nemico Capisce che è molto meglio Tenere in piedi te Piuttosto che gli altri Suoi sedicenti Alleati E questa appunto È la congiuntura Che fa sì Che in pochissimi anni Quindi Agnadello È 1509 Entro il 1516 Quindi nell'arco Di 6-7 anni Gran parte La più parte Dello stato Di terraferma Viene ricostituito Attraverso una serie Di azioni militari Fortunate Con la sponda Appunto Della potenza Francese Bene Si ripristinano Più o meno Gli rapporti di soggezione Che erano saltati Allora Secondo voi Venezia Cosa farà Nei confronti Dei ceti urbani Cetti dirigenti urbani Che si sono dimostrati Così Infedeli E così Infidi Secondo voi Li castigherà O li perdonerà Grazie a tutti